C'è un gusto che sa di festa, sa di leggerezza e di sorrisi, sa di persone a cui vuoi bene e del tempo passato con loro, sa di buona musica e di allegria, sa di pane fragranti, irresistibili sfizi e carne cotta alla griglia. È il gusto di ogni sagra che oggi celebriamo da McDonald's. La salamella in due invitanti ricette, croccanti patate frisè e sfiziose specialità. Vieni alla sagra di McDonald's.